Un canale YouTube per Montreale perché? Perché l'utilizzo del web e di strumenti come YouTube sono ormai canali imprescindibili di promozione turistica. Il web condiziona ogni giorno le nostre decisioni e a maggior ragione le condiziona quando dobbiamo scegliere la meta di un nostro viaggio. YouTube è il sito più utilizzato per scegliere la destinazione turistica della vacanza. Ben il 65% dei turisti lo utilizza per guardare video di viaggio. Ed è anche per questo motivo che sempre più comuni utilizzano dei canali social per divulgare in maniera istituzionale dei contenuti di carattere turistico-culturale. Ed è quello che vogliamo fare anche noi con questo canale YouTube. Vogliamo condividere conoscenza, fare cultura per suscitare nello spettatore un'esperenzialità emozionale che gli farà scegliere Montreale come meta del suo prossimo viaggio.